Il laboratorio fotovoltaico è una facility realizzata per l'analisi delle caratteristiche elettriche ed energetiche dei componenti e degli impianti fotovoltaici. Il sistema elettrico nazionale ha raggiunto un'elevata penetrazione di impianti fotovoltaici raggiungendo una capacità di 20 gigawatt. Di conseguenza nasce l'esigenza di conoscere quali sono i fenomeni di degrado della tecnologia e come mantenere elevati i livelli delle prestazioni energetiche degli impianti mantenendo al minimo possibile il costo della manutenzione. Il laboratorio fotovoltaico è una facility dotata di aree sperimentali dedicate all'analisi dell'elettroluminescenza dei moduli fotovoltaici, area sperimentale per le prove inverter e l'area dedicata alle misure di tensione corrente dei moduli e delle stringhe fotovoltaiche. Questo laboratorio quindi ha permesso di conoscere quali sono i principali fenomeni di degrado della tecnologia anche in funzione delle diverse condizioni climatiche, ha permesso quindi anche di dare delle risposte validate sperimentalmente a organismi e anche operatori del fotovoltaico. Attraverso il monitoraggio effettuato su un campione nazionale che è rappresentativo delle tecnologie fotovoltaiche installate in tutto il parco fotovoltaico italiano, è stato possibile conoscere nel dettaglio quali sono i principali fenomeni di degrado della tecnologia e attraverso anche i dati acquisiti con un'elevata precisione, è stato possibile anche validare modelli matematici per la previsione della produzione del fotovoltaico. Tra le criticità emerse è stato notato come una bassa qualità di manutenzione degli impianti fotovoltaici è spesso la causa di una bassa prestazione dell'impianto stesso. RSI quindi ha messo a punto delle metodologie di prove sia di lunga che di breve durata, ha elaborato anche delle metodologie per la diagnostica dei guasti e inoltre l'area sperimentale per le prove inverter ha permesso di elaborare e sviluppare degli algoritmi per inverter stessi proprio per aumentare l'efficienza di conversione degli impianti fotovoltaici. I principali stakeholder che beneficiano delle attività sperimentali effettuate nel laboratorio fotovoltaico RSE sono responsabili delle politiche energetiche, anche comitati normativi proprio grazie alla partecipazione ai progetti prenormativi e operatori nel settore fotovoltaico. Tra i principali c'è Enel Green Power dove RSE ha realizzato un impianto gemello proprio nei laboratori Innovation Lab di Catania. Va ricordato che il laboratorio fotovoltaico si integra nella test facility di RSE che di fatto può essere considerata una microrete su cui diverse fonti energetiche rinnovabili insistono caratterizzate da diversa tecnologia e aleatorietà. Questo permette quindi di valutare per esempio qual è l'impatto che il fotovoltaico ha su una rete elettrica.